La Sandro Abate dopo tre K.O. di fila risorge in Sicilia, in casa del Melilli evince 7-1, i lupi del futsal trovano il secondo successo stagionale esterno, tripletta per Alex, doppietta per Gabriele Lugherani, gloria anche per il classe 2004, Daniel Petrillo e Sigillo finale di Gui. A fine gara il coach Piero Basile, Avellino e Alex fanno il punto della situazione e invitano il pubblico a sostenere i verdezzurri nel prossimo delicato impegno casalingo, quando Aldel Mauro arriverà Pomezia. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere, perché per noi oggi l'unica cosa che contava era riprendere la marcia che purtroppo avevamo lasciato nelle ultime settimane, un po' per tutte le cose che sono passate, però credo che al di là del risultato l'abbiamo fatto anche bene, perché comunque il Melilli è una squadra che se la tiene in partita comunque in questo campo è difficile affrontarla, per noi siamo stati lucidi, sono anche contento perché questo premia il lavoro della squadra aver fatto 3-4 cose su palaferma, quindi adesso sapevamo che per noi oggi l'unica cosa che contava era far punti. Adesso dobbiamo lavorare, riprendere la nostra marcia e già pensare alla partita di Pomezia, perché così come abbiamo fatto tanto, perché per noi questa è una partita che forse valeva anche una stagione, così sappiamo che non abbiamo fatto nulla, perché se vogliamo riprendere a scalare la classifica dobbiamo farlo già dalla partita di sabato prossimo con il Pomezia. Penso che oltre ai tre punti ci portiamo delle certezze che dovevamo ritrovare, che dopo la prestazione che abbiamo fatto questa settimana in Coppa di Visione avevamo deluso soprattutto noi stessi e oggi dobbiamo riprendere quello che siamo, penso che lo abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare per questa strada e cercare di crescere sia come squadra, come gruppo e per arrivare ai traguardi che ci siamo prefissati prima di iniziare la stagione. Lo più importante sono i tre punti, che per noi era molto molto necessario, credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione e questo è l'importante. Abbiamo fatto una partita di gruppo, una partita unita, credo che non abbiamo dato l'opportunità a loro di poter fare qualche punti e questo è l'importante. Allora tocca descansare perché la domenica per Sky teneremo una partita molto difficile, che va a essere molto complicata e vamos a intentare di portare i tre punti per casa.